Vi sono cattivi Disney, ricordati tuttora per la loro malvagità e la loro perfidia. E poi vi sono quelli che nessuno scorderà mai per la loro epicità. Come Isma, l'antagonista del classico Disney Le Follie dell'Imperatore, che seppur presentandoci un carattere collerico e dominato dalla sete di potere, ci ha regalato battute memorabili e una performance che difficilmente riusciremo a dimenticare. Abbassa la leva, cronk! L'altra leva! Se c'è una frase che non ha bisogno della dicitura cheat alla fine, è proprio quella pronunciata da lei. La perfidia in tempera e inchiostro, l'egocentrismo nella sua forma più sublime e spigolosa, la diretta testimone della nascita della vita sulla Terra, nonché madrina di battesimo della regina Elisabetta. Isma, ovvero la spassosissima villain del classico Disney Le Follie dell'Imperatore. Quando negli intenti dei produttori tale pellicola avrebbe dovuto intitolarsi Il Regno del Sole ed essere una trasposizione del Principe e il Povero in stile precolombiano, Isma era diversa tanto nell'aspetto quanto nel carattere e negli intenti. Una figura dalla malvagità decisamente più cupa e profonda. Tuttavia, il progetto originale venne totalmente ribaltato nello stile narrativo e nei contenuti, proponendoci una cattiva meno drammatica, ma sicuramente più forte dal punto di vista scenico e visivo. Essendo fondamentalmente una pellicola comico-demenziale, Isma si adegua a tale sfondo, mostrandosi quasi come una versione parodistica di Crudelia de Mon, condividendo con ella un corpo scheletrico, un'anatomia angolosa e un volto triangolare. Anche nel carattere e nelle movenze si possono indovinare accenni a Crudelia, ma molto più marcati, esagerati e caricaturali, levando ovvero il mordente che caratterizzava l'antagonista della carica di 101. Ben lungi dall'essere Miss Machu Picchu, Isma veste con abiti che, seppur in blando stile sudamericano, appaiono decisamente anacronistici, nonché abbastanza osè. Da notare, inoltre, come il suo guardaroba si ha quasi tutto sui toni del viola, tinta che simboleggia la follia e il lutto. Il carattere di Isma è un vivace caleidoscopio di difetti e atteggiamenti negativi. È una donna vanitosa e megalomane, convinta di essere affascinante malgrado le candeline non trovino più spazio sulla sua torta di compleanno. Altra sua peculiarità è l'assoluta mancanza di empatia verso il prossimo, un disinteresse totale ai sentimenti e alle necessità altrui, atteggiamento reso evidente nella scena in cui afferma «Ah! Dovevi rifoletterci prima di diventare un pezzente!» rivolta a un contadino che era venuto a chiederle aiuto trovandosi nell'impossibilità di sfamare la propria famiglia. Malgrado tali caratteristiche, poco si accostino al ruolo di leader, Isma è accecata dalla sete di potere e sarà proprio il desiderio di sedere sul trono, a porla in contrasto con Cusco, il quale, va detto, condivide con lei praticamente ogni negatività, salvo poi redimersi a fine storia. Nella sua esagitata comicità, il comportamento di Isma è altamente distruttivo, non è disposta a riconoscere i propri difetti, non tollera alcuno sgarbo ed è pronta a contraattaccare le offese, vere o presunte, in modo brutale. Uccidere per lei è facile quanto respirare. Quando Cusco, stufo di vederla tentare di rubargli il posto, deciderà di licenziarla, Isma non ci penserà due volte a mettere in atto un piano per eliminare il rivale e diventare l'unica e sola detentrice del potere. È incondizionatamente guidata dalla furia, perennemente arrabbiata, e il suo esterismo rompe gli argini in continuazione, rendendo impossibile avere con lei un qualche tipo di intesa, a subire più frequentemente gli effetti nocivi di tale carattere irrascibile, è il suo tirapiedi Kronk, per il quale vale la pena dispendere qualche parola. È difficile definirlo spalla comica, in quanto tutti i personaggi della storia sono intresi di comicità, però è di certo una riuscita rivisitazione del classico braccio destro grosso, tonto e servile. Per quanto non molto cerebralmente dotato, e malgrado sia devoto al villain della situazione, Kronk controbilancia la sua ingenuità fanciullesca con una bontà d'animo che entra in netto contrasto con l'acida cattiveria della sua padrona. Fatto della stessa pasta inflessibile di cenerentola, sopporta ogni insulto, ogni rimprovero, ogni ingrato compito. Gli si perdona il fatto di aiutare Isma nei suoi piani malefici, proprio perché appare chiaro come egli in realtà sia troppo buono per capire fino in fondo la perfidia della donna. In ogni caso, sarà proprio Kronk a evitare la morte di Cusco, dando vita a una serie di rocambolesche avventure, e non solo. Isma vanta il non proprio pregevole primato di essere uno dei pochi villain, se non addirittura il solo, a trovare la sconfitta proprio per mano del suo tirapiedi. Possiamo paragonare Isma a certi generi di persone che, purtroppo per l'umanità, esistono anche al di fuori della realtà cinematografica. E, purata dalla sua componente ironica e divertente, quel che rimane di una simile figura è abbastanza disturbante. Con i suoi scatti d'ira, la sua mancanza di sentimenti benevoli verso gli altri, il suo esagerato egocentrismo, e la sua propensione a risolvere i conflitti con la violenza e l'inganno, piuttosto che col dialogo e la trasparenza, Isma pare tratteggiare il carattere di persone sociopatiche, quelle che non tollerano essere contraddette, o che non accettano che qualcosa si svolga in modo diverso da come l'hanno pianificato. Per descrivere gli individui come Isma, con una zeccata frase di Kronk, piuttosto sinistra nella sua ironia, essi hanno il filo spinato intorno all'anima. E tale fatto non solo impedisce agli altri di instaurare con loro rapporti sani e costruttivi, ma inibisce tali soggetti a legare con il prossimo, relegandoli in una perpetua e frustrante solitudine. Quelli che nella nostra società si comportano come Isma mettono se stessi al primo posto e incolpano gli altri dei propri fallimenti, non lesinando critiche al vetriolo, insulti e perfino violenze fisiche in aggiunta a quelle verbali. Inoltre, proprio come accade nel film, tali individui scelgono di parassitare e manipolare persone mentalmente e moralmente più deboli e ingenue, servendosi di loro, ma senza riconoscerne i meriti, ricompensandone gli sforzi con disprezzo e umiliazioni continue, con sfuriate e ingiurie. Duole dirlo, individui del genere spesso non agiscono con consapevolezza, ma per via di afflizioni mentali che, se non diagnosticate e tenute sotto controllo con opportune terapie, possono continuare a danneggiare i più deboli per anni e allo stesso tempo eroderne persino se stessi.